Diceva sempre io ho fatto quello che desideravo fare fino dall'università e quindi ecco io penso che fosse una persona normale, un anti-eroe, non un eroe, ecco se mi posso permettere. Però sicuramente il suo sentire sempre legato alla profonda religiosità, al profondo senso di carità, a questa grande umiltà lo ha portato ad avere questo riconoscimento grandissimo che tutti ormai sappiamo e ne siamo orgogliosi. Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla Stidda, organizzazione mafiosa grigentina, il 21 settembre 1990, sarà beato. Papa Francesco ha autorizzato il decreto che riconosce il suo assassino come un atto in odio alla fede, un martirio. Lucia Livatino è parente del futuro beato, suo padre e quello di Rosario erano cugini, lei biologa in pensione è nata e cresciuta a Prato, ma ha conosciuto bene il giudice ragazzino, il più giovane tra i magistrati uccisi dalla mafia. Non pensiamo al ragazzo modello che si montava la testa, credete per quello che vi posso dire, era assolutamente normale, era un giovane, si vedeva subito però carico e si sentiva carico di una responsabilità, lui aveva scelto di fare giurisprudenza. Ormai da tempo Lucia Livatino è impegnata nel far conoscere ai ragazzi delle scuole, in particolare quelle pratesi, la figura di Rosario, magistrato martire della fede. Un esempio di vita, di assunzione di responsabilità, di credere fino in fondo in quello che è la propria visione, cioè soprattutto per un magistrato scegliere, decidere responsabilmente e non dimenticando mai gli insegnamenti di quel Vangelo che lui portava sulla sua scrivania.